Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi di nuovo genitori, è nata Celeste. A dare la bella notizia su Instagram è stata Aurora Ramazzotti, figlia della showgirl Lady Eros. Poi, anche la Hunziker ha aggiornato il suo profilo Facebook scrivendo, è nata la nostra terza bambina alle 10.30 di oggi. Si chiama Celeste ed è un amore pazzesco. 3.330 grammi di donnina che ci renderà la festa delle donne ancora più speciale per tutta la vita. Vi voglio bene. Michelle. Giornata indimenticabile in casa Trussardi. Proprio nel giorno della festa della donna, Michelle ha dato alla luce la piccola Celeste, terza figlia per lei e seconda di Tommaso Trussardi. Ed è stata proprio Aurora a dare l'annuncio sul suo profilo Instagram con un tenero post che dice, esiste modo migliore di celebrare insieme una giornata così, che con la nascita di una splendida bambina. Auguri a tutte le donne. Sorellona per la terza volta. Un cuore rosa ricamato svela quindi il nome della terza bambina. Dopo Aurora e Sole è la volta di Celeste. Auguri infiniti anche da voci di donna. Auguri. 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 Grazie a tutti.